A Monopoli per fare risultato. E' questo l'imperativo dell'Akragas, la quale, dopo le prime due sconfitte, nelle prime due giornate di campionato, vuole adesso togliere lo zero dalla casera dei punti e tornare a fare ispirare tutto l'ambiente. Mister Criaco ci crede. Sarà ancora lui a guidare i biancazzurri della panchina con Di Napoli che affronterà l'ultima giornata di squalifica prima del rientro. Ai microfoni del sito ufficiale dell'Akragas, Criaco ha assicurato che saranno tutti a disposizione e che, dopo i tre gol subiti in casa dal Rende, tutto il gruppo conta di fare risultato e di riscattare immediatamente la beffa subita negli ultimi minuti dei calabresi davanti al pubblico dell'Esseneto. Fischio di inizio del match alle ore 18.30 di sabato, altro anticipo dunque per i biancazzurri. Dopo le ultime tensioni, tornare in Sicilia con un buon risultato acquisito farebbe da tocca sana per proseguire con maggior ottimismo la stagione. Grazie a tutti.